Ciro! Cora è Jenny? Sto qua! E cagnato profumo? Ehi! Che ti hai messo? Aude Villamar Hai fatto Gruppe Fuoco? Ci ho pensato io Ha ci chiamato a Zecchinette a Malamore a Peppo Crick e Lello Croc E' Joan Peppa Pig Non vuole venire E che ha detto? No, 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 non vengo No, 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 no Così è troppo eh Ste battute si fa anche per pagare il mutuo Esatto E potete chiamare Osvaldo Osvaldo chi Osvaldo Mitraghetto Non vuole venire E che ha detto? Se ci ho fatto non vengo E allora potete chiamare Antonio Lavatrice Antonio Lavatrice Eh Non vuole venire E che ha detto? No, 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 no Ma io tu sei dimagrito troppo Non, 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 non. Tutto nelle scisate le panna. Non, 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 non. Ma che stai facendo? Il lavaggio a secco. È chi stegre? O risciacco! Tu non vai a sparare? E vai che a sparare? ora omaggiamo al maestro vince tempera la perquisizione rtl oh si come te lui si mi amava io non mi pippo solo che pensavo quanto è inutile fare credere di stare bene quando togli le tue mani non mi abbraccia e mi ripeti che sono davide mi ricordo che rivivo in tante foto tante foto casellini pianofoni doni dani ferma ferma regia fannare fu chicchi fannati a colonna di morte eh sta bene grande ediziano ferro